E' un, e' due, e' tre, via! E' un po' la decina, per me! E' un po' la decina! E' un po' la decina! Perchè gli pollici vanno in sotto! E' un po' la... andiamo in sotto! E' uno di chi le pollici che mi mettoni mica! Ma comunque mi trovo la sputa alla volta a porrlo! A che si vanno a provare la sua? E' una nuova salida! E' una nuova salida! Grazie.